Sì, sicuramente sta giocando una buona tona a volo, noi siamo stati bravi a metterle subito sotto. Statisticamente capita abbastanza spesso che vincete 3-0 con due set dominati e un set pari-pari. È un caso? No, è che se vinciamo tre set facili poi il pubblico è troppo una schede. No, è che secondo me partiamo subito bene e aggressive il primo set, anche se qui c'è l'allenatore che mi sgrida. Però secondo me il secondo set quando vinci tanto agevolmente il primo, non ti dico che è quasi normale, però parti un po' più rilassato. E quindi ci sono dei set un po' più equilibrati. Tutto qui, ma l'importante è portare a casa avanti i punti. Poi come si vinci puoi vincere anche 27-25, 27-25, 27-25. Senti, la partita di sabato a busto per voi ha un significato speciale, un po' di vendetta. Vendetta? Io voglio vincere. Di scatto. Di scatto, sì. Voglio vincere perché con loro abbiamo sempre vinto, a parte la partita che ci ha tirato fuori e questo... Non vedo l'ora di andare sabato a giocare, sinceramente, quindi sono contenta di affrontarle. Fortunatamente l'ultima di campionato e vediamo.